Quadrato punta la porta, Quadrato volando dal traversore, traversore teso in mezzo, all'altra parte Kostic al volo e la deviazione di Milic, la Juventus è in vantaggio! Kostic pronto al traversore, in mezzo di testa McKennie, il gol della Juventus, Western McKennie! Kostic al traversore, in mezzo, attenzione come in testa la rete, ha segnato la Juventus, ha segnato il cinquantunesimo, Gleison Bremer! Vlaovic ancora la porta a su, Vlaovic, Vlaovic, Vlaovic sulla corsa per Kostic! 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 La Juventus è in vantaggio! Filip Kostic si presenta così! Kostic! Kostic viene servito, va ancora il serbo, traversore in mezzo a cercare, Kenn! Dopo sei mesi torna il gol! Kostic prova a salire con Kostic, bel movimento del serbo! Ancora Filip Kostic, arrivano tutti gli altri come dei treni! Kostic vuole aprire dall'altra parte, ma Filip Kostic, Kostic! Kostic, dentro il pallone, deviazione! La Juventus è in vantaggio! Cinquantunesimo minuto, Adria e Rappiù! Kostic, Kostic ancora, dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Facioli! 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 Il raddoppio della Juventus! La Juventus è in vantaggio! Clayson Kostic è in vantaggio! Maginata dentro a cercare Kostic, con il desto a Plaovic! Con calcio arriva Kostic! Il raddoppio della Juventus! Filip Kostic! La zappata giusta! Andare a prendere il tempo! Aguicel Boccio! Kostic in mezzo verso Moise Ken, che ci arriva! La Juventus è in vantaggio! Moise Ken! Attenzione! Cevlaovic libero! Kostic! Kostic! In mezzo il pallone morbido! A cercare Rabiot! Arriva a quadrato! Destro! E la palla in rete! Il pareggio della Juventus! Con l'uomo derby! Per eccellenza! Qua a quadrato! Destro! Il crociato! 1-1 Juve! Adesso spingiamo dall'altra parte! Lo facciamo con Kostic! Che va al traversone! Verso Di Maria! Di Maria! Il pallone verso Bremer! Gleison Bremer! Il controllo di Rabiot! Dall'altra parte c'è Kostic! Eccolo servito! Kostic entra in area! Prova a caricare il sinistro! Filip Kostic! Terzo gol in campionato! Terzo gol in stagione! E' un gol favoloso! ��! Incazione! Grazie a tutti.